Con la delibera di giunta comunale numero 220 del 20 luglio 2023 l'amministrazione Gravina ha parato l'istituzione di una zona a traffico limitato nella città di Campobasso. Le opposizioni per voce del capogruppo della Liga al Comune Tramontano dicono che dal punto di vista procedurale disporre la costituzione della ZTL attraverso una delibera di giunta comunale e non attraverso una delibera di consiglio comunale denota un atteggiamento di non rispetto delle prerogative dei consiglieri comunali. Il progetto fu illustrato ai residenti a marzo. Il progetto prevedeva accesso riservato solo ai residenti e ai commercianti, possibilità di transito per i mezzi che scaricano merce e telecamere installate nei principali punti di accesso, quale l'area interessata, la cinta delimitata dall'asse di via Marconi, via Ziccardi, il primo tratto di via Orefici fino all'incrocio con via Petitti, quattro i varchi di accesso sotto l'occhio della telecamera via Firenze, piazza prefettura, via Palombo e via Larino. Altro problema i parcheggi, l'amministrazione starebbe vagliando l'ipotesi di un abbonamento a prezzi contenuti per consentire ai residenti di parcheggiare nel centro storico una volta avviata la ZTL. Una soluzione da subito contestata perché penalizzerebbe i residenti che avrebbero anche l'aggravante del costo del parcheggio. Fino a dieci anni fa i residenti avevano contrassegni e parcheggi riservati, gratuiti. Il rischio che la ZTL potrebbe essere il colpo di grazia per le poche attività commerciali e artigianali che ancora resistono in quella zona. Alberto Tramontano chiede il ritiro della delibera di giunta e richiede che l'argomento sia portato in Consiglio Comunale, che vi sia un dibattito pubblico aperto ai cittadini e ai titolari di attività economiche delle aree interessate dal provvedimento.